Musica Ancora una vittima a causa del covid, si tratta di una persona appartenente a una casa di riposo a Vinchiaturo, contagi in salita, oggi 71, intanto confermata la zona gialla in Molise. Spacciatore di origini sinti e residente a Termoli, condannato a sei anni di carcere per traffico di droga ai finanzieri, inoltre gli sequestrano anche abitazioni e rimesse milionarie. In consiglio regionale è passata oggi la legge sulla consulta della famiglia e tempi invece ancora lunghi per la soppressione delle comunità montane. I lavoratori forestali tornano a mettere il dito nella piaga, la politica molisana lontana dalle loro esigenze, da circa tre mesi non percepiscono alcuno stipendio. E buonasera a tutti cari amici telespettatori e ben ritrovati con l'appuntamento del telegiornale di TLT. In apertura torniamo a parlare di contagi e di virus, situazione in peggioramento. Oggi in Molise si registrano nuovi 71 positivi e un aumento considerevole dei ricoverati anche in terapia intensiva. 21 a Campobasso, 2 a 22 a Castelpetroso e 11 a Riccia. I nuovi contagiati al Cardarelli ci sono altri cinque ricoveri. Un paziente si è invece aggravato ed è stato poi trasferito nel reparto di terapia intensiva. I ricoverati totali adesso sono 56, di cui 48 in malattie infettive e 8 in terapia intensiva. Andiamo invece a vedere il quadro nazionale. Sono in tutto 35.000 i casi di coronavirus registrati oggi. Nelle ultime 24 ore la regione che segna l'incremento maggiore è sempre la Lombardia. Le vittime salgono a poco più di 42.000 con altri 580 decessi. Le terapie intensive a livello nazionale aumentano di 122 unità per un totale di 2.971. Intanto il Governo nazionale discute su possibili variazioni. E non concede dunque treguo, abbiamo detto, il contagio. In Italia oggi una persona appartenente a una casa di riposo è deceduta. Intanto si teme. Ma andiamo a vedere. Ancora ricoveri e decessi e nuovi positivi a causa del diffondersi del coronavirus in Molise. Dati allarmanti questi che impongono nuove decisioni e ulteriori restrizioni. Il totale dei morti sale a 56. Attualmente positivi sono oltre 1.700 e ora si teme. Intanto il quadro italiano si aggrava e molte regioni anche vicine al Molise sono ormai divenute da gialle a zone arancioni. Rischio concreto ci sarebbe poi anche per il Molise dato il suo elevato indice di contagio. L'RT è salito ormai a 1,88. I medici intanto allarmano le comunità scientifiche, alzano i toni e chiedono a gran voce la stretta generalizzata lungo tutto lo stivale. Il contagio non diminuisce e le nuove misure varate nell'ultimo decreto ministeriale pare non siano sortendo gli effetti sperati. Il consiglio resta sempre lo stesso, che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo e lavorativo cercando di rimanere il più possibile a casa ed evitare le spese inutili. All'interno dell'ospedale Cardareddi di Contrada Tappino intanto i ricoveri preoccupano e anche i primari chiedono subito misure urgenti. Dal canto suo, invece, l'ASREM sarebbe tranquillo e il direttore generale Oreste Florenzano ad oggi esclude situazioni limiti e poco gestibili. Il Molise resta zona gialla, confermato così se il Ministero della Salute ha deciso in tal senso, lo ha fatto in base a degli indicatori sul controllo del rischio. Questo però non significa che dobbiamo abbassare la guardia, anzi, occorre continuare a lavorare come abbiamo fin qui sempre fatto e procedere con screening a tappeto e contenimento dei cluster. Così il Presidente della Regione, Donato Toma, in relazione al recente provvedimento del Ministero della Salute, ha commentato così. E ancora molte scuole chiuse in Regione a causa dell'emergenza del virus. Oggi è stato riscontrato un caso di positività anche di un insegnante appartenente ad una scuola di Petrella Tifernina. Il Sindaco Amoroso per tale motivo ha disposto la chiusura della struttura primaria e secondaria di primo grado in attesa dei tamponi e della sanificazione. E l'ondata pandemica preoccupa in questo momento anche Angelo Giustini, commissario della Sanità regionale, che in una lettera inviata al Governo centrale, al Presidente Donato Toma e alla politica chiede maggiori poteri per poter gestire la crisi. Giustini nello specifico chiede provvedimenti simili a quelli adottati in Calabria. Il commissario ad acta chiede anche l'estensione delle disposizioni al fine di poter disporre di una struttura analoga a quella prevista nel decreto in parola per attuare un percorso sanitario di rilancio. E a firma del suo Presidente Italo Testa, il Forum in difesa per la sanità pubblica indirizza una lettera aperta a tutti i sindaci dei comuni molisani chiedendo trasparenza nei dati forniti. Ma andiamo a vedere il contributo. Il Presidente del Forum per la difesa della sanità pubblica di qualità in Molise, Italo Testa, firma a nome e per conto dei comitati ed associazioni che rappresenta una lettera aperta che indirizza i sindaci di tutti i comuni molisani. Il gesto parte dalla considerazione del loro potere in materia sanitaria che permette loro di avere accesso agli atti e dunque di poter esercitare un compito di accertamento della veridicità delle notizie che vengono fornite dai responsabili regionali. Una veridicità che risulta essere più volte autocertificata ma anche messa continuamente in discussione da altre fonti. Notizie, spesso contrastanti, che diventano incerte, ambigue e che minacciano la piena condivisione circa la direzione degli interventi. Nella lettera si avanzano diversi punti di domanda che meritano tutta l'attenzione possibile e riguardano notizie che devono trovare una veridicità perché, se veritiere, richiederebbero delle prese di posizione da parte dei primi cittadini ferme e di contrasto. È vero, scrive Italo Testa, che il pronto soccorso e la stanteria dell'ospedale di Termoli sono resi poco operativi perché intasati da ricoverati per Covid-19 non trasferibili all'ospedale Cardarelli di Campobasso per la saturazione dei posti letto in malattie infettive? Che il pronto soccorso di Serni è diventato in una sua porzione un altro reparto per malati Covid-19 non essendo possibile trasferirli a Campobasso presso il reparto di malattie infettive? Che un paziente deceduta per Covid-19 presso la RSA di Vinchiaturo perché rifiutata dal reparto malattie infettive del Cardarelli che aveva saturato tutti i posti letto? Che i tre ultimi decessi per Covid-19 sono avvenuti nel reparto malattie infettive e non in terapia intensiva perché non si era potuto trasferirli nella rianimazione? Che anche nel Molise è iniziato un triage per cui vengono inviati in rianimazione solo quei pazienti dichiarati per età suscettibili di cure rianimative? Che non è possibile ricoverare al Cardarelli pazienti gravi affetti da malattie infettive e contagiose che non siano Covid? Se sì, dove mandare detti pazienti vista la mancanza di altri reparti simili nel Molise? È vero infine che di fatto sono stati sospesi ricoveri ospedalieri per pazienti affetti da patologie non Covid anche se in condizioni gravi? E continua così anche il lavoro della Croce Rossa di Zernia in sinergia con numerosi comuni nell'effettuare i test sierologici e i tamponi rapidi ai cittadini che li richiedono Ma andiamo a vedere Medici ed operatori della Croce Rossa di Zernia hanno iniziato da tempo ad effettuare nei comuni che hanno richiesto il servizio i test sierologici ed i tamponi rapidi a pagamento Il prossimo appuntamento a Zernia sabato 14 e domenica 15 novembre attraverso un drive-in nelle vicinanze della sede di via Pascoli In sinergia con il comune di Zernia sabato 14 e domenica 15 qui nelle vicinanze della nostra sede che si trova in via Pascoli organizzeremo il test nella modalità drive-in Si tratterà sempre di un tampone rapido e gli automobilisti che vorranno sottoporsi a questo test si incolonneranno, ci sarà nostro personale pronto ad assisterli e con questa modalità contiamo di andare incontro alle esigenze di molti cittadini che magari durante la settimana per lavoro non hanno potuto farli Noi qui effettuiamo dei test di screening che siano tamponi o sierologici e devo dire che soprattutto i tamponi stiamo riscontrando delle positività positività che poi ovviamente devono essere confermate dall'ASREM ma usiamo dei tamponi che hanno un'attendibilità superiore al 98% e infatti stiamo riscontrando appunto le stesse positività poi al tampone molecolare dell'ASREM Devo dire che dipende dai giorni ma la media non è molto bassa in realtà sulle positività dei tamponi più bassa sui sierologici Troviamo positività maggiori sugli adulti soprattutto una fascia di età diciamo tra i 40 e i 50 anni Abbiamo ritrovato, abbiamo riscontrato anche qualche bambino ma soprattutto sono persone in questa fascia di età qui tra i 30, i 40 e i 50 anni soprattutto Per quanto riguarda la positività del soggetto il soggetto deve restare in isolamento fiduciario a casa e con lui tutti i suoi conviventi Ovviamente se i suoi conviventi non risultano positivi il soggetto dovrà seguire delle norme igieniche sanitarie ad esempio sanificare il bagno usare delle stoviglie di plastica comunque vivere se possibile in un'altra abitazione qualora non fosse possibile nella stessa ma cercando di restare un po' isolato dai familiari anche ad esempio le stoviglie, i suoi abiti, il bagno hanno bisogno di una cura maggiore ovviamente Emergenza sanitaria Il consigliere regionale Vittorio Nola chiede di poter ripristinare i servizi minimi nelle strutture pubbliche regionali Il Santissimo Rosario non sia parcheggio per gli anziani in particolare dice per il presidio di Venafro è importante riattivare il reparto di radiologia il centro per l'assistenza ai diabetici il punto di primo intervento e procedere anche alla nomina del responsabile della casa della salute E su disposizione della procura di Perugia gli uomini della finanza invece confiscano a termoli abitazioni rimesse ad un pregiudicato il valore di essi e di oltre 2 milioni di euro Ma andiamo a vedere La guardia di finanza di Termoli ha provveduto a sequestrare diversi immobili nei confronti di un pregiudicato di origine sinti residente nella città del Basso Molise condannato per traffico di stupefacenti il sequestro delle forze dell'ordine si riferisce ad una condanna definitiva a 6 anni di reclusione per detenzione e trasporto di 15 kg di eroina La condanna è una delle numerose a carico del malvivente formalmente senza lavoro e privo di reddito come il suo nucleo familiare responsabile di reati contro l'ordine pubblico il patrimonio, frode e reati inerenti il traffico di droga il provvedimento che ha portato l'uomo in carcere è risultato di complesse investigazioni svolte dai finanzieri Nel patrimonio di immobili gestito dal nomade erano elencati una villa della grandezza di 800 metri quadrati due garage, due rimesse una sala ricevimenti e due depositi per un valore complessivo che supera i 2 milioni di euro L'attività è stata avviata dalla Procura Generale di Perugia che grazie al supporto della Guardia di Finanza prosegue nella ricerca di ricchezze accumulate dalla criminalità organizzata e restituirle alla collettività I beni confiscati a termoli verranno assegnati allo Stato Restiamo sempre con la cronaca di un 63enne molisano il destinatario di un ordine di esecuzione e di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Campobasso L'uomo, gravato da precedenti penali nel 2017 era stato condannato alla pena di 10 mesi di reclusione poiché è riconosciuto colpevole dei reati di truffa e frode in commercio commessi a Vinchiaturo e a Ripalimosani nel 2011 Nei prossimi 10 mesi lo stesso avrà l'obbligo di permanenza domiciliare con permesso giornaliero per far fronte alle esigenze personali e di salute Il questore di Campobasso ha invece emesso nuovi provvedimenti un daspo urbano nei confronti di due donne di nazionalità rumena rispettivamente di 34 e 27 anni entrambe a residenti della provincia di Campobasso Le due a seguito di un'operazione di polizia giudiziaria erano state colpite da una misura cautelare emessa dal Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica in quanto le stesse erano dedite allo spaccio di stupefacenti all'interno di un locale notturno della provincia presso il quale svolgevano l'attività lavorativa a causa della loro pericolosità non potranno quindi accedere per i prossimi tre anni all'interno di NetClev dove avevano attuato le proprie condotte illecite e parliamo adesso di politica 11 voti a favore 8 invece quelli contrari l'Assemblea regionale di via 4 novembre approva la consulta della famiglia per gli aiuti ai nuclei in difficoltà ma andiamo a vedere la proposta di legge sulla istituzione della consulta della famiglia è passata in consiglio regionale la nuova legge prevede funzioni di impulso alla realizzazione di politiche rispettose del principio di sussidarietà che la regione rivolge ai nuclei familiari il consigliere di maggioranza Andrea Di Lucente ha poi illustrato un'indagine che riguarda le liquidazioni dei singoli enti dopo la messa in liquidazione delle comunità montane il percorso individuato era quello dell'associazionismo tra comuni la sede individuata erano le unioni dei comuni organismi che però non sono mai decollati non sono riusciti a far transitare i dipendenti non sono riusciti a farsi carico della gestione delle strade strutture e dei beni di queste istituzioni la relazione in aula in via 4 novembre ha quindi evidenziato la necessità prima di procedere alla liquidazione legata al personale attualmente negli enti montani ci sono circa 46 dipendenti per i quali si apriranno due strade transitare per altre strutture oppure vedersi collocare in mobilità in secondo luogo c'è l'impossibilità di dismettere in blocco il patrimonio dei singoli enti comunitari all'interno infatti trovano posto centri commerciali mai entrati in funzione piscine ma anche boschi e strade interpoderali l'ultimo nodo da sciogliere resta quello dello svolgimento in forma associata delle funzioni dei singoli comuni la legge regionale esiste ma non ha mai portato al decollo di questi organismi che dovrebbero prendere il posto delle comunità montane ereditandone obiettivi e patrimonio infine resta la questione comunità montana molise centrale ente che si occupa della discarica di montagano sito nel quale conferiscono circa 50 comuni in provincia di Campobasso garantire la prosecuzione della raccolta rifiuti resta questione prioritaria hanno fatto sapere nell'aula di Palazzo Daimmo e la pandemia ha inasprito le situazioni di indigenza in basso molise soprattutto il punto durante la terza edizione della settimana del povero ma andiamo a vedere il servizio tra gennaio ed ottobre 2020 le situazioni di povertà in basso molise sono aumentate a contribuire sicuramente l'emergenza sanitaria che continua ad attanagliare l'intero paese sempre più persone si sono rivolte al centro di ascolto della Caritas Decesana un terzo di queste ha figli e minori mentre l'età media degli utenti soprattutto italiani è salita con un incremento di 65 anni dati questi che raccontano la vita e le storie di tanti e che evidenziano l'impegno della Caritas a favore degli indigenti tematica al centro della terza edizione della settimana del povero promossa dalla diocesi di Termoli Larino in occasione della quarta giornata mondiale dei poveri istituita da Papa Francesco a conclusione del giubileo della misericordia nel 2016 un'iniziativa che terminerà domenica 15 novembre e che promuove una riflessione dell'intera comunità sulla fragilità un progetto incoraggiato da Monsignor Gianfranco De Luca e che mette al centro i giovani nell'ambito del contest tendi la tua mano al povero si potrà così rileggere il messaggio del Papa attraverso un monologo un dipinto scrivendo un racconto danzando o preparando un video sui canali della diocesi Facebook Instagram Twitter e sito poi la pubblicazione quotidiana di messaggi di chi ha atteso la propria mano e più bisognosi l'intenzione resta quella di mantenere alta l'attenzione sul tema dell'impegno personale di ciascuno per accogliere quanti vivono situazioni di bisogno riducendo le disuguaglianze sociali infine spazio la diffusione di schede di preghiera è un'opportunità per le famiglie e gli studenti dell'istituto alberghiero Federico di Svevia di Termoli che non dispongono di computer a casa o vivono in zone non ancora raggiunte dalla connessione veloce internet ci sarà tempo fino a venerdì 13 per richiedere un netbook oppure un tablet incomodato d'uso gratuito oppure della connessione gratuita internet per l'anno scolastico in corso e sono invece circa 300 i giovani molisani coinvolti dall'esame di abilitazione per la professione di avvocato rinviato a differenza però di scelte diverse attuate per altre professioni dal ministro della giustizia Alfonso Bonafede ma andiamo a vedere siamo veramente convinti che l'Italia non sia un paese dove si opera in funzione dell'inclusione dei giovani nelle varie professioni ma anzi si fa il contrario spingendone molti ad abbandonare il campo e a trovare lavoro e glorie quasi sempre in altri posti per lo più in Europa o negli Stati Uniti l'ultima vicenda riguarda un'intera categoria di persone tra le quali circa 300 giovani molisani ed è quella interessata dall'esame di abilitazione per avvocati che si sarebbe dovuto svolgere nei giorni del 15, 16 e 17 dicembre e che invece è stato rinviato dal ministro della giustizia Alfonso Bonafede a chissà quando della difformità di scelte per altre professioni ce ne parla un giovane avvocato praticante del foro di Sernia Michele De Marinis è arrivato l'annuncio del ministro della giustizia Bonafede attraverso canali sicuramente non istituzionali il quale ha annunciato il rinvio sine die dell'esame per l'abilitazione alla professione Forense l'abilitazione rappresenta l'unico canale per andare effettivamente e concretamente nel mondo del lavoro l'indignazione e l'amarezza è forte soprattutto se si affronta la nostra categoria professionale con quella di altri professionisti quali lontoiati gli ingegneri gli architetti i farmacisti i quali per via dell'emergenza hanno avuto la possibilità di svolgere con modalità alternative e differenti l'esame per l'abilitazione nella loro professione modalità alternative che nel nostro caso non sono state prese in considerazione dal ministero nonostante gli interventi sia a livello parlamentare che di associazione quale il Consiglio nazionale forense e laica l'amarezza è forte soprattutto se si pensa che l'abilitazione è il momento in cui si va a coronare il proprio sogno la propria formazione il proprio studio i sacrifici nostri e delle nostre famiglie quello che chiediamo al ministro Bonafede è di intervenire e di predisporre modalità alternative affinché il nostro diritto al lavoro venga tutelato ed è stato invece identificato dall'istituto Neuromed di Pozzilli un nuovo farmaco per il trattamento sperimentale delle assenze epilettiche e esse sono la più comune forma di epilessia i piccoli pazienti che ne sono affetti perdono per pochi secondi la capacità di contatto con la realtà che li circonda per poi riprendere ciò che avevano interrotto senza ricordare nulla di quanto accaduto poco prima la molecola studiata agisce direttamente sul sistema di trasporto e all'ultimo presidio dell'unione sindacale di base davanti alla sede della giunta regionale presente anche una delegazione dei lavoratori forestali che lamentano ancora una volta tra i molti problemi anche il ritardo del pagamento delle spettanze andiamo a vedere ancora una volta le problematiche dei lavoratori forestali sono state portate in piazza è successo nel corso di un presidio davanti palazzo vitale la sede della giunta regionale del molise effettuato dagli iscritti dell'unione sindacale di base tra i quali una rappresentanza appunto dei forestali purtroppo la situazione è abbastanza grave perché gli operatori forestali attendono ancora le spettanze del mese di agosto e al momento non ci sta alcuna prospettiva ancora per quanto riguarda lo sblocco dei pagamenti noi da giorni da anni veramente stiamo cercando un confronto con l'assessore Cavaliere con il presidente Toma però dobbiamo dire che molto spesso sono assenti perché dietro non c'è stata fatta una programmazione oculata quindi c'è sempre carenza di fonti di progetti e quindi di conseguenza di giornate lavorative e di reddito per i lavoratori forestali in Molise sono circa 150 operatori forestali suddivisi tra la cantieristica forestale e il servizio antincendio boschivo e quindi ripeto che siamo in attesa degli stipendi ancora sia per quanto riguarda il servizio antincendio che quello della cantieristica forestale del mese di agosto del 2020 quindi sono tre mesi che i lavoratori non percepiscono alcun reddito e questo noi lo riteniamo davvero inconcepibile perché i fondi per la forestazione c'erano nel piano di sviluppo rurale c'erano nei fondi FESR solo che la politica ha scelto di non impegnarsi di non curare questo settore in maniera oculata e quindi adesso ci troviamo ad affrontare delle problematiche che sono davvero gravissime purtroppo le risposte latitano latitano perché il presidente Doma negli ultimi due anni e mezzo dimantato è stato quasi sempre impegnato a risolvere questioni personali e a cercare di mantenere gli equilibri in consiglio regionale e si è dedicato poco agli interessi dei cittadini molisani in generale e l'ANAS ricorda che dal 15 di novembre al 15 di aprile sarà in vigore l'obbligo delle catene a bordo pneumatici invernali su tutte le strade statali e raccordi autostradali in gestione in molise ciclomotori e motocicli invece sono esenti da questo obbligo e potranno circolare però solo in assenza di precipitazioni nevose e senza ghiaccio lungo la strada l'ordinanza è stata emanata in attuazione delle norme del codice della strada ma adesso andiamo a vedere le previsioni del meteo la gamma commerciale tutta l'energia che ti serve specialisti delle batterie e degli accumulatori e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salmo dalla sera debole nuvolosità sul litorale Adriatico stellato altrove le temperature odierne sono comprese tra gli 8 gradi di Campobasso e la massima di 21 a Disernia ventilazione settentrionale mare calmo sulla regione domattina cielo inizialmente velato valori climatici stazionari correnti deboli di direzione variabile e parliamo della palacanestro femminile di A1 la Magnoli a Campobasso stringe i denti e supera l'ostacolo del Broni verso il recupero fisico invece sono le cestiste Mancinelli e voi andiamo a vedere Mimmo Sabatelli la reazione forte rabbiosa del Broni si è fermata a 57 punti nel quarto parziale cosa è scattato nel suo quintetto era una partita difficile contro due squadre che non mollano mai l'hanno dimostrato loro nel non arrendersi nei nostri 2-3 break che avevamo presi al primo quarto e soprattutto al terzo quarto dove siamo andati addirittura a più 16 loro sono state molto bravi addirittura ad arrivare sul più 1 e lì forse qualsiasi squadra avrebbe mollato noi invece da almeno uno ci siamo guardate abbiamo stretto ancora di più i denti ci siamo sacrificati di più alla fine abbiamo portato a casa una vittoria veramente importante quindi devo fare complimenti alle ragazze perché non era facile era una partita difficile ed è una vittoria molto molto importante le poche rotazioni hanno inciso con il trascorrere dei minuti ma noi stiamo uscendo da una situazione complicata ripeto stiamo acquistando una buona forma che c'era mancata dobbiamo adesso la sosta viene a favore nostro nel senso che adesso ci sarà la possibilità di recuperare anche le due infortunate parlo di Mancinelli e di Voita purtroppo per l'Inskens l'infortunio è più grave quindi però posso dire che le rotazioni sicuramente si allungheranno a proposito dell'infortunio della belga l'Inskens lei ha chiesto alla società di tornare sul mercato ma adesso dobbiamo recuperare le infortunate che abbiamo sul posto è normale che con la società c'è stato un confronto la società è una società che cercherà di fare sempre il meglio quindi ripeto sappiamo che siamo in emergenza sotto quel punto di vista in quel ruolo quindi ci stiamo guardando intorno sicuramente però sono tranquillo perché so che la società farà il massimo per potermi mettere a disposizione eventualmente una nuova giocatrice e dopo il successo del Castelfidardo il Cus Molise si prepara a ricevere un altro quintetto marchigiano il Futsal Coba di fermo tra le più forti formazioni del girone C a due di calcio a cinque la gara è prevista per sabato 14 all'interno del palazzetto dell'Ateneo a Campobasso l'obiettivo principale degli universitari però rimane la salvezza ma non sarà certo difficile raggiungere posizioni di media classifica nel corso del campionato e con questa notizia di sport è tutto anche per stasera termina qui l'edizione del telegiornale come sempre vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia arrivederci a un buon proseguimento a un buon proseguimento a un buon proseguimento a un buon proseguimento un buon proseguimento